Andiamo a Gocciolo Ciao amici Sto qui con Gocciolo Ci stiamo facendo una passeggiata Spero che i video che ho fatto questi ultimi giorni vi stiano piacendo Ne ho ancora altri da mettere Sto facendo questo video invece per dirvi, anzi per chiedervi Se potete aiutarmi tramite i commenti A capire che cosa di più vi piace da vedere per Roma In modo che io possa fare dei video più mirati Così io so di preciso quello che volete E cercherò di trovare il tempo e la maniera per dedicarci più tempo Questo è il quanto E auguro buona giornata